Ha parlato di musica e teatro, delle difficoltà che gli artisti e di tutti coloro che ruotano intorno a questo mondo stanno affrontando da mesi e naturalmente del suo ultimo lavoro discografico. Negli studi di Radio Bussola 24 a Salerno, Salda Vinci si è trattenuto per oltre un'ora rispondendo alle domande di Olga San Mauro e Mimmo Sorgente, ma soprattutto a quelle dei tanti radioscoltatori che hanno potuto interagire con l'artista napoletano. Salda Vinci ha presentato il Cielo Blu di Napoli che con Viento e soppazzo per te farà parte dell'album di Inediti in uscita ad inizio 2021. Un nuovo lavoro, quattro anni dopo non si fanno prigionieri, realizzato Correnato Zero. Nella musica distanze non ce ne sono e non ci devono essere, ma soprattutto nell'arte. Purtroppo siamo costretti a vivere un momento molto spettrale e particolare che spero al più presto ognuno di noi possa riprendere il viaggio della propria vita. Io mi sono immaginato questo brano per portare un po' di leggerizza a me stesso, ma soprattutto alla gente che comunque ascolta e segue la mia musica. Il Cielo Blu di Napoli, il Cielo è sempre più blu, mi sono anche ispirato al grande Rino Gaetano. Il Cielo Blu di Napoli è un modo per raccontare l'amore, l'amore sotto tutte le sue sfaccettature. C'è questo lavoro che arriva dopo la collaborazione, il lavoro con Renato Zero, questa è una bella responsabilità adesso. Sì, quattro anni fa accadeva, nel dicembre del 2016 io pubblicavo l'album e così, scusami, non si fanno prigionire perché così che giro il mondo era qualche anno prima, non si fanno prigionire con la collaborazione del grande Renato Zero che mi ha accompagnato in questo viaggio artistico straordinario, al di là della sua grande umanità. E poi arriva appunto questo album che ha un titolo ma per il momento non è stato ancora svelato e che nel prossimo anno consegnerò a tutti voi. Voglio dire stare fermi un anno, non solo non riesci a curare la tua anima e quindi ci dobbiamo impegnare a curare quella cosa invisibile perché l'anima è qualcosa che non si vede ma si vive, si sente e quindi non la dobbiamo necessariamente curare. Io spero di superare questo momento insieme a tutti voi e di ritornare nelle piazze, in teatro, ad avere il nostro contatto, quindi a comunicarci tutto quello che è il nostro viaggio della vita.